Dieci anni fa, quando anche grandi erano piccoli, iniziava un'avventura che avrebbe convolto un sacco di ragazzi. Un piccolo gruppo di persone ha creato quello che adesso è il Valfassa! La prima colazione del campetto invernale. Una dichiarazione? Lavori! Poi che sta! Poi che vieni! 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 Andraa! 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 Sì, go post! Questo è il cibo, adesso sarà bello! Feroci, se c'è la merenda che ti aspetta! Ehi ragazzi, non pensate mica che sia finita qua! Io ho appena cominciato e ne ho ancora tante di avventure da fare! Preparatevi a vederne delle belle!